Ciao ragazzi, allora quasi ci siamo, allora il 28 giugno alle ore 20 italiane, 28 giugno venerdì, 28 giugno alle ore 20 italiane ripeto, sarò in diretta con il youtuber Simone Viaggiatore per parlare di Canarie, quindi non perdere questa occasione, le partite non ci sono, non hai scusa, parleremo di Canarie, potrai partecipare alla diretta facendo le tue domande e iscrivendoti al canale di Simone il Viaggiatore, il link te lo lascio qui in descrizione e ti arriverà anche la notifica di quando inizierà la trasmissione, se vuoi sapere il mio punto di vista allora non perderti e siediti davanti al tuo computer o davanti al tuo telefono e guarda la diretta per sapere il mio punto di vista e tante altre cose di un residente che vive alle Canarie ormai da 10 anni, se hai parenti, amici, interessati a questo argomento ti prego condividilo con loro ti aspetto venerdì 28 giugno alle ore 20 italiane, le partite non ci sono, non hai scuse per vedere questa diretta spettacolare. Ciao!